Corrado, Alessio, Gognome, Gerasani, Barato, 35, 39, Quindi tutti e due gli occhi, giusto? Gli occhi, ok, perfetto. Le tette. Non guardi niente, non guardi niente. Il culo, la foca. Prendendolo in giro. Ma no, deve stare incinta. No, no. Sicuro? Si. Due. Nomi. Eni e Michela. Lavoro di San Mar. Ma fai la voce. Su Facebook. Ahahahah. No. Con il corpo si, con la menta no. Con il corpo si. Due. E io. Adiamante. Adiamante. Oggi. L'enonomia. Estamella. Stavella. Mora. 67. 90. Oggi. Castane. Dessere. Perché guardi anche giochi? No. Sì. Ok Quella più bella E non scusarsi mai Anche io Lui Sta lui Io Scusarsi Sì? No Qual è la tua squadra del cuore? Instagram Per me lo può essere pure a Poliercar Aia Se ne è cascato il snack Non me lo ricordo E' incantito Per una bocca Mia moglie Io Sicuro? Eh? Sicuro? Sì Vabbè il padrone sono io Mi comando è lei Nooo La felicità Con la felicità Con il cuore di due Nooo 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 Nooo